Avevamo già pronosticato un risultato del genere e quindi soddisfattissimo. Sì, davvero tanto. Questo è il risultato di un duro lavoro fatto in questi cinque anni ed è il frutto di un lavoro fatto sicuramente di squadra. Cercheremo di lavorare così come abbiamo fatto in questi cinque anni, lavoreremo per tutti quelli di San Nicola e per i tanti turisti che arrivano qui nel nostro ormai meraviglioso paese. Ed ora il Consiglio Comunale deve subito mettersi al lavoro per l'estate? Sì, siamo già alla stagione estiva, siamo arrivati ormai quasi alla stagione per cui insomma dobbiamo metterci subito a lavorare, rimboccarci le maniche e vedere subito cosa fare. Ci sono un sacco di cose burocratiche da fare come il bilancio, quindi da lunedì siamo operativi. Io non avevo dubbi sul suo plebiscito perché Barbara ha governato bene, è uno dei sindaci più dinamici e vivaci del Mezzogiorno d'Italia, è dimostrato anche dai flussi turistici che aggrediscono San Nicola Arcella, è una bella città, lei ha un grande cuore ed era giusto che il suo popolo le tributasse questa vittoria. Ovviamente noi siamo stati vicino perché la conosciamo da tempo, conosciamo il suo valore, conosciamo la sua onestà, conosciamo la sua lungimiranza, la sua visione. È una bella pagina questa di San Nicola.